A voi tutti ben ritrovati dal vostro Giuseppe Davidis, amici del nord ovest, del Piemonte di Rete7, vediamo cosa sta accadendo. Beh, le temperature sono aumentate, il tempo è nuovamente migliorato e continueremo ad avere ancora temperature al di sopra della media sino a fine mese. E' tempo stabile, quindi ancora bel tempo, avremo cielo sereno per tutto l'arco della giornata e un po' su tutto il territorio, quindi davvero un'altra stupenda giornata primaverile, anzi più che primaverile. Andiamo a vedere le temperature, sono aumentate, lo sappiamo, comunque è chiaro che notte al primo mattino risultano ancora piuttosto freschine, non fredde ma freschine, con valori attorno ai 5-8 gradi centigradi. Sulla costa invece valori addirittura anche al di sopra dei 10 gradi. Vediamo invece le temperature massime, beh, torneranno attorno ai 20-21, localmente 22 gradi centigradi. Io per ora ho concluso, vi auguro di trascorrere una buona giornata primaverile. Arrivederci!